Ciao a tutti! Carissimi, oggi parleremo di musica! Ci avevate chiesto di fare un video in cui parlassimo di cantanti e gruppi italiani attuali, in modo da potervi dare dei consigli sui cantanti che fanno successo oggi in Italia. Ebbene, eccomi qua! In questo video vi parlerò di 10 cantanti e gruppi italiani degli ultimi anni. Iniziamo da una donna, Anna-Lisa, una cantautrice. Ah, e questa è un'espressione interessante! Cantautore o cantautrice vuol dire che oltre a cantare la persona scrive i testi delle canzoni, è autore o autrice. Ma parliamo di Anna-Lisa. Lei è divenuta nota come cantante partecipando al talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda. Successivamente ha preso più volte parte al Festival di Sanremo nella categoria big. Le sue canzoni parlano d'amore, ma molte sono anche ballabili. E una cosa che noi due abbiamo in comune è il nostro amore per i gatti. Il secondo cantante di cui vi parlerò è Coesp. Questo esponente del pop rap italiano ormai ha una carriera consolidata da anni. Ma solo nel 2017 ha raggiunto per la prima volta la vetta della Top singoli. Oltre a ottenere sei dischi di platino con la canzone La musica non c'è. Nel 2019 ha pubblicato il singolo È sempre bello e questa è una delle mie canzoni preferite per celebrare i suoi 10 anni di carriera. Il terzo cantante di questa lista è Ultimo. No, non sto scherzando, il suo nome è veramente Ultimo. Ultimo, pseudonimo di Niccolo Morricconi, nato a Roma nel 1996 e molto giovane, è stato il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria nuove proposte con il brano Il ballo delle incertezze ed è arrivato secondo a Sanremo 2019 con il brano Il tuoi particolari, una canzone scritta alla sua ex fidanzata. Le sue canzoni mescolano pop e hip hop e i suoi testi di solito parlano d'amore. Il quarto di cui vi parlo è Marco Mengoni, un cantante del pop rock italiano. Mengoni ha partecipato due volte al Festival di Sanremo nel 2010 con il brano Credimi Ancora giungendo Terzo e nel 2013 vincendo con il brano L'Essenziale. La sua canzone che mi piace di più è Guerriero. Questa canzone ha fatto tantissimo successo in Italia e il suo testo è bellissimo. In un'intervista Mengoni ha detto che Guerriero è la coscienza, l'anima, l'alter ego che ci aiuta a superare i momenti difficili e a scegliere la strada giusta. Bello no? La prossima è Francesca Michelin, una cantautrice e polistrumentista. Ha raggiunto la notoretà nel 2011 e durante la sua carriera ha vinto molti premi, anni. Oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 Tra le sue canzoni più famose ci sono Magnifico e Scigno Nero, cantate insieme a Fedes, un rapper italiano e il sesto cantante di cui vi parlerò. Nel 2013 Fedes pubblica il suo grande successo Signor Brainwash, l'arte di accontentare. Dopo ha fatto delle collaborazioni con JX e Fabio Rovazzi, cantanti e suoi ex amici. Si, erano molto prossimi, ma dai, li sbrigarono, mi virò un vero casino. Oltre ad essere un cantante molto famoso, Fedes è sposato con Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale italiana più famosa del mondo. Sobre questo cantore in questione, ho una cosa importante per dire. In 2019, io participei di un corso per professori di italiano nella Accademia della Crusca, l'Italia, in Firenze, e una delle aulas fu su come il rap ha influenciato la lingua italiana di oggi. E il palestrante usò come esempio di Fedes. E poi, lui analizzò alcune delle lettere, delle sue musici e di altri rappers anche, e parlò del fatto che i giovani italiani oggi gostariano molto di questo gênero musical. Bene, ora parliamo di JX, l'ex amico di Fedes. Un cantatore e produttore discográfico italiano, noto già da molti anni, ma che continua a fare successo, soprattutto per le sue collaborazioni con altri cantanti. Una delle sue canzoni che mi piacciono di più è Tutto tua madre, del 2018. Il brano scorre tra la rabbia di non riuscire ad avere un bambino, la frustrazione dell'impotenza nel vedere tutti i tentativi fallire e la propria donna soffrire e l'amore del figlio appena arrivato. I Manneskin, i miei preferiti tra l'altro, sono un gruppo musicale rock italiano, formatosi a Roma nel 2015. Il loro primo album, Il ballo della vita, è stato pubblicato nel 2018 ed è stato segnato da un grande successo grazie soprattutto ai singoli Morirò da re e Torna a casa. Il nono cantante della lista ha una storia molto interessante. Alessandro, conosciuto come Mahmood, che canta hip hop e pop, è stato il vincitore del Festival di Sanremo 2019 con il brano Soldi, con cui si è anche classificato secondo all'Eurovision. Mahmood è nato a Milano di madre sarda, ragione per la quale lui parla fluentemente il dialetto sardo, e padre egiziano. Ha scritto la canzone Soldi parlando appunto del padre che l'aveva abbandonato. Il pezzo non parla di soldi a livello materiale, ma di come possono cambiare i rapporti all'interno di una famiglia. L'ultimo gruppo di cui vi parlerò sono i Pinguini Tattici Nucleari, formatosi nel 2010 in provincia di Bergamo. Il gruppo raggiunge il successo mediattico solo nel 2020 con la loro partecipazione al 70esimo Festival di Sanremo, concorrendo con il brano Ringo Starr. È una canzone veramente bella e divertente. Il 17 aprile 2020 è uscito Riddere, il loro secondo singolo, che viene classificato con il disco di platino. Bene, io vi devo confessare che è stato difficile scegliere solo 10 cantanti o gruppi perché ce ne sono così tanti come per esempio Dio Dato, Esteri Basta, Fred De Palma, Calcutta, Rocco, Antil Volo, Gali, Gue Pequeno, Maracassi, Bundabeschi, Alessandra Amoroso, Giussi Ferreri, Emma, Elodie, Tagaggia Chietra, Gabani, Ermalmetta, Salmo... Allora, fatemi sapere nei commenti se ne conoscete qualcun altro che ti volete consigliare. Ora vi saluto, un bacione a tutti e alla prossima! Grazie a tutti!